Grazie, buongiorno a tutti. Di che cosa parliamo quando parliamo di intelligenza artificiale? Per capire quello che ci può riservare il futuro vicino e forse il futuro un po' più lontano, è bene fare alcune precisazioni. Una prima definizione di intelligenza artificiale è molto ampia, viene chiamata General Artificial Intelligence e ha l'obiettivo sostanzialmente di riprodurre interamente l'intelligenza umana. Per capirci è quella che dovrebbe passare il famoso test di Turing. Turing è quel matematico su cui hanno fatto anche il film The Imitation Game. Il test di Turing, progettato originariamente da lui, poi ci sono state molte versioni, dice sostanzialmente che ci sono tre attori, A, B e C. A è un uomo, B è una donna e C indifferentemente un uomo e una donna. C deve indovinare, interagendo con A e con B in maniera nascosta e quindi per esempio tramite un terminale, se A è un uomo e B è una donna, mentre A ha il compito di falsificare per così dire le informazioni, di ingannare C e B invece ha il compito di aiutare C. Il test dice che se le volte che C azzecca il fatto che A è un uomo e B è una donna in un colloquio con veri umani è uguale a quando invece ad A sostituiamo una macchina, significa che quella macchina è indistinguibile dall'uomo. Capirete che questa definizione di intelligenza artificiale è estremamente difficile da raggiungere e infatti non abbiamo nemmeno la più pallida idea di quando sarà possibile raggiungerla. Una cosa invece molto più limitata viene chiamata Narrow Artificial Intelligence ed è l'applicazione di principi di intelligenza molto focalizzati su domini specifici, su aree specifiche. Vediamo come questo concetto di intelligenza sia per l'appunto pervasivo e lo vediamo innanzitutto analizzando dove viene applicato e le conseguenze che l'introduzione di questa intelligenza molto specifica, molto puntuale ha sul mondo del lavoro e come le imprese devono adattarsi o potrebbero adattarsi. Il primo punto riguarda come evolve la tecnologia, l'abbiamo toccato anche in alcune presentazioni di ieri, però è importante perché la tecnologia ha delle leggi proprie di evoluzione che non ci permettono di fare previsioni certe o previsioni accurate. Se vedete questa rappresentazione che è stata fatta da uno dei massimi guru della Silicon Valley per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, un certo Ray Carswell che lavora per Google, se prendiamo tutti i grandi avvenimenti della storia e li mettiamo in un grafico con una rappresentazione lineare, sembra che tutto fino all'invenzione del personal computer accada nell'ultimo secondo. I tempi tra un'invenzione, tra un grande accadimento e il successivo tendono a ravvicinarsi al punto che per distinguerli dobbiamo farne una rappresentazione in scala logaritmica. Questa è anche il modo in cui evolve la tecnologia, tende per l'appunto a seguire una curva di crescita che viene chiamata esponenziale. Questa curva di crescita chiamata esponenziale è stata formulata da un certo Moore che era uno dei fondatori dell'Intel alla fine degli anni 60 e diceva sostanzialmente che il numero di transistor che può essere stipato in un microprocessore sarebbe raddoppiato ogni 18 mesi. Questa legge è stata poi riformulata dicendo che ogni 18 mesi di conseguenza, in realtà questo di conseguenza non è proprio così, il costo per la stessa funzionalità sarebbe dimezzato e qui abbiamo alcuni esempi. Se prendete per esempio i robot industriali per la stessa funzionalità nel 2008 il costo era di mezzo milione di dollari, nel 2013 è sceso a 22 mila euro. Vi faccio solo un esempio ma per dire che le barriere all'entrata che tipicamente erano costituite da investimenti in tecnologia tendono a sparire, quindi per fare qualcosa il costo della tecnologia è a costi marginali sostanzialmente nulli. Perché è importante avere in mente questo concetto? perché è praticamente impossibile prevedere lo sviluppo tecnologico nel lungo periodo. La curva esponenziale ha un primo punto, una prima fase in cui è quasi parallela all'asse delle ascisse. Quello viene chiamato blind spot, è un punto cieco, non sappiamo quando invece ci sarà l'inflection point, il punto di svolta che renderà il fenomeno, che causerà al fenomeno una crescita esponenziale. Torno alla mia distinzione tra general e narrow artificial intelligence. Quando sarà possibile avere un'intelligenza generale, tipo quella dei film di fantascienza? Non è possibile dirlo, però in teoria all'inerpicamento della curva potrebbe accadere che un'intelligenza, una super intelligenza simile a quella dell'uomo possa essere sviluppata. Quali sono le tecnologie che beneficiano dell'artificial intelligence? Vedete anche quanto si sta investendo in queste tecnologie, seguendo la rappresentazione della combinazione di tecnologie che costituiscono i building block. L'artificial intelligence, la robotica, l'internet delle cose, i sensori, la realtà virtuale o aumentata, i droni e il blockchain. Ognuna di queste racchiude, integra artificial intelligence, intelligenza artificiale. Per fare robotica evidentemente c'è bisogno dell'intelligenza artificiale, per fare i droni c'è bisogno dell'intelligenza artificiale. diventa un elemento che è pervasivo in qualsiasi building block, per continuare la metafora dell'ingegner Pontremoli per quanto riguarda l'evoluzione della tecnologia. L'intelligenza, per l'appunto, quella narrow, quella che si limita a fare delle cose molto specifiche, può essere distinta in assisted intelligence, quando c'è un intervento umano, ma non c'è un apprendimento, l'esempio è il GPS delle macchine. In automated intelligence, quando per esempio la robotica, tipo la robotic process automation, è deterministica, io ho delle regole che mi permettono di fare delle attività che sono molto rutinarie, arriva l'apprendimento con l'augmented intelligence, è l'esempio delle chatbot, dei virtual assistants, di Siri, della manutenzione predittiva di cui abbiamo sentito parlare nell'intervento precedente, e poi l'intelligenza che è completamente autonoma, tipo quelle delle autonomous cars, le macchine che si guidano da sole. In quel caso raggiungiamo in un ambito specifico una completa autonomia. E vedete quanto il mercato ci sta investendo, sia da un punto di vista di corporate venture capital, sia da un punto di vista di valore del mercato in generale. Questo è l'impatto che l'intelligenza artificiale ha sul prodotto interno lordo, sul GDP. Come vedete è previsto da uno studio che abbiamo fatto, che nel 2030 l'impatto e quindi l'influenza dell'intelligenza artificiale sul prodotto interno lordo globale, italiano, scusatemi, globale, sarà di circa 16 mila miliardi di dollari, quindi un importo veramente molto elevato. Per fare che cosa? Per migliorare l'esperienza di utilizzo della tecnologia o di qualsiasi altra cosa, per diminuire i costi, per una maggiore agilità organizzativa, sarà praticamente utilizzata in qualsiasi cosa. E in quali ambiti? Qui vedete rappresentate i mercati in cui verrà maggiormente utilizzata sempre nello stesso orizzonte temporale, quindi entro il 2030. Vedete che spicca la parte di education, healthcare e public services, che in questo momento non sembrano magari beneficiarne molto, ma sono gli ambiti dove i risultati saranno maggiori, saranno quelli che daranno probabilmente anche l'impatto più benefico, proprio esattamente in quegli ambiti. Questo invece è specificamente nel settore manifatturiero, dove abbiamo circa un 4 mila miliardi di impatto sul prodotto interno lordo globalmente nel 2030. Facendo che cosa? Molto personalizzazione di servizi e di prodotti, quindi uso l'intelligenza artificiale per personalizzare o un device o un servizio, l'esempio è Siri per quanto riguarda l'iPhone, o la messa a disposizione di dati, di informazioni che poi possono essere riutilizzati per fare qualcos'altro. Intelligenza artificiale che fa dagli utility una funzione proprio di utilità nella gestione quotidiana. Penso per esempio ad Alexa di Amazon per interagire e ottimizzare la gestione della spesa al supermercato tramite il collegamento con un e-commerce e così via. E l'ultima parte invece è il tempo che viene risparmiato evidentemente. Veniamo agli impatti. Gli impatti hanno innanzitutto un impatto sul sistema cognitivo, che è probabilmente l'impatto maggiore. Il fatto di utilizzare delle tecnologie cambia il modo in cui ci rappresentiamo il mondo. Si parla di mente aumentata per esempio, però il concetto è che i processi cognitivi non avvengono solo ed esclusivamente all'interno della scatola cranica. Utilizziamo, ma questo lo facciamo da sempre, strumenti, tool dell'ambiente che ci circonda per delegare alcune delle funzioni cognitive. Questi tool oggi sono tecnologie e sono sempre più tecnologie che integra artificial intelligence, intelligenza artificiale. E cosa cambia? Cambia per esempio la coscienza spazio temporale. Il primo intervento aveva a che fare con la sparizione della geografia. Uno è esattamente uno degli ambiti del sistema cognitivo che è più impattato. Quello che è più impattato è il livello di attenzione. Ormai le ultime ricerche dicono che soprattutto i giovani non riescono a mantenersi focalizzati su un'attività per più di pochi secondi. E questo è tutt'altro che è un effetto positivo evidentemente, col quale come società dobbiamo in un qualche modo avere a che fare. La coscienza di sé ha in ruoli diversi. Abbiamo diverse personalità a secondo del contesto tecnologico che stiamo utilizzando. Addirittura soprattutto i giovani hanno personalità diverse a seconda del social media che stanno utilizzando. Facebook viene utilizzato grammaticalmente, quindi proprio come galateo, diversamente da Whatsapp o diversamente da Snapchat. La percezione degli oggetti e poi evidentemente soprattutto la memoria. E questo è un problema che da sempre ha a che fare con le nuove tecnologie a partire dalla scrittura, dall'invenzione della scrittura in poi. E quindi questo cosa significa? Da un punto di vista di strumenti aziendali. Qui è rappresentata una serie di attività che tipicamente facciamo quando lavoriamo, indipendentemente dal nostro ruolo specifico, che verranno tutte fortemente impattate da strumenti di artificial intelligence, da creare qualcosa a collaborare, da orchestrare team o oggetti o tecnologie a servire per esempio, dare servizio a colleghi, a clienti. Tutte queste attività che ormai vengono racchiusa nel concetto di workplace, che viene per l'appunto etichettato come digital, avranno fortemente a che vedere con l'intelligenza artificiale. Bene, se tutto questo è vero, se l'intelligenza artificiale è così pervasiva, è dentro qualsiasi device tecnologico e cambia addirittura la nostra mente e il modo in cui ci rappresentiamo il mondo, come cambia il mondo del lavoro? Che cosa ci aspetta in un futuro abbastanza prossimo? E qui abbiamo fatto due studi, uno è la nostra SEO Survey, dove abbiamo intervistato circa 1400 amministratori delegati di aziende del mondo, che ci dice per esempio che prevedono un difficile equilibrio legato alla diffusione dell'automazione. Quindi c'è il 79% degli amministratori delegati intervistati che pensa che ha paura sostanzialmente di questa collaborazione tra uomini e robot che incorporano artificial intelligence. Questo dato però è stranamente contraddetto dal fatto che non prevedono una riduzione della forza lavoro causata dall'artificial intelligence, dalla robotica, ma prevedono invece assunzioni in aumento. Il 52% di loro dice che non vedranno un impatto sulla riduzione del personale. Quindi queste due cose evidentemente danno il segnale che c'è una difficoltà per l'appunto anche di comprensione. L'altra cosa che dicono è che vedono una carenza di risorse non solo nell'ambito delle discipline tecniche, ma anche nell'ambito delle discipline soft o umanistiche o sociologiche, che sono sempre più richieste per gestire la complessità che viene portata dal cambiamento cognitivo a cui abbiamo accennato causato dall'intelligenza artificiale. Un altro studio che abbiamo fatto però è più a livello di scenario e rappresenta quattro mondi del lavoro che potrebbero avverarsi, probabilmente non in modo univoco, quindi ci sarà una combinazione dei quattro nel futuro, che seguono sostanzialmente due assi. In un primo passo abbiamo messo il livello di frammentazione soprattutto per quanto riguarda le aziende, quindi la grandezza delle aziende e quanto sono frammentate e dall'altro invece il livello di integrazione. Nell'altro asse invece abbiamo il livello di individualismo, quanto conta la persona e dall'altra parte invece il collettivismo, quanto conta l'insieme delle persone. Abbiamo individuato quattro mondi che vi vado a raccontare. Il primo mondo l'abbiamo chiamato RED ed è il mondo dell'innovazione più estrema, il mondo dove esiste una frammentazione molto elevata, è il mondo che favorisce per esempio le start up per darvi uno degli esempi più eclatanti. Il lavoro dipendente diminuisce molto, le aziende, le corporation vedranno ridursi molto il numero di dipendenti, mentre il lavoro non dipendente, quindi per esempio di freelance, di specialisti di una singola disciplina aumenterà conseguentemente. Qual è l'impatto di una cosa di questo tipo? Un dimagrimento delle grandi corporation che oggi vengono rappresentate come il male assoluto di solito, a favore invece di una frammentazione di aziende più piccole o addirittura zero dipendenti che contribuiscono a creare oggetti e servizi. All'altro estremo invece abbiamo un rafforzamento delle multinazionali, delle corporation, corporate is king e quindi avere un lavoro dipendente segna la differenza rispetto a chi non ce l'ha e c'è una sorta di monopolio anche per quanto riguarda l'innovazione che viene esercitato da poche entità sovranazionali. Anche in questo caso però è previsto una diminuzione del numero totale di dipendenti ma non con una proliferazione così ampia di agenti individuali. il terzo invece dice l'importante è l'attenzione all'ambiente, al care, al caring, è la parte più ecologista, l'azienda sia essa piccola o grande deve permettere di raggiungere obiettivi che vanno al di là della mera esecuzione di un compito e quindi la tutela della terra, delle risorse diventa un elemento estremamente importante. Come è importante il bilanciamento vita professionale e vita privata? Una tipologia di azienda che evidentemente si prende cura non tanto del singolo individuo quanto di piccole comunità, è la proliferazione del concetto di community in qualsiasi senso. L'ultimo invece è molto individualistico, non è più la community il centro, è l'individuo ed è l'individuo che vuole avere successo non in un mondo di grandi corporation dove non vuole lavorare, ma nemmeno in un mondo di community, di valori collettivi, è l'individualismo come ricerca del successo personale. Questo evidentemente non è in contraddizione con la prima che abbiamo visto, quella delle start up, dell'innovazione, ma con un modello molto più centrato sull'individuo. Quali sono i problemi? I problemi per le aziende sono come trattenere, come ricercare prima e trattenere poi e gestire nel durante questo tipo di persone, che sono le persone che si stanno affacciando al mondo del lavoro, le persone che stanno per l'appunto iniziando a lavorare in questi anni, i cosiddetti millennials. Come li possiamo gestire? Probabilmente avendo in mente questa quadripartizione di tipologie, di archetipi, di aziende che potrebbero esistere nel futuro simultaneamente e tutte impattate dalla pervasività dell'intelligenza artificiale. Come ci si adatta? Le aziende oggi, indipendentemente dallo scenario che si avvererà nel breve. Come si devono adattare? Beh, innanzitutto tramite la sperimentazione. Una cosa che in questo momento va per la maggiore è il design thinking, cioè il fatto che prima di lanciare un prodotto io lo devo sperimentare, lo devo prototipare. Da un punto di vista culturale questo ha molto a che fare con il fare, con i maker, con il fatto che la teoria non è più disgiunta dalla pratica, cioè non c'è più per esempio una ricerca e sviluppo che lavora in una torre d'avorio, progetta qualcosa che poi passa qualcuno da realizzare. Le due fasi sono compenetrate, penso facendo e questo è un altro elemento di condizionamento del sistema cognitivo. La pervasività di questo modello, della prototipazione, del pensare facendo, è uno dei modi di gestire la complessità. Il secondo è favorire un ecosistema di innovazione. Abbiamo sentito l'importanza del territorio, l'importanza di mettere insieme agenti diversi e non solo per fare business ma per esempio anche per fare formazione come era quello dell'ingegner Pontremoli per quanto riguarda le università. Questa cosa qua però deve essere strutturata, gestire un ecosistema di innovazione non è una cosa che si può improvvisare, devono essere messe insieme università, centri di ricerca, società tecnologiche, i propri collaboratori come dipendenti o come freelance, devono essere gestite le idee, valutate, capire quando e come portarle avanti. Tutto questo richiede uno sforzo ed è uno sforzo non disgiunto dalla parte di prototipazione, del pensare facendo a cui facevo riferimento un secondo fa. Il terzo elemento ha a che fare con il ruolo dell'information technology. Per la maggioranza delle aziende lo scopo non è quello di fare building block o non solo building block per usare la stessa metafora. Lo scopo è quello di combinarli. Se lo scopo è questo, l'information technology deve diventare un broker di servizi, deve essere capace ad integrare elementi diversi, cose che per la maggioranza dei casi oggi non avviene. Io devo essere capace da un punto di vista tecnologico di essere talmente flessibile che i miei sistemi informativi devono poter agire in modalità plug and play, esattamente come metto una spina per collegarmi alla rete elettrica e integrare l'innovazione che è prodotta dalla startup nella Silicon Valley o quella nella Valley dell'automotive in Emilia Romagna. Il tutto in tempi brevissimi. Il ruolo dell'information technology diventa chiave, ma non per le tecnologie che utilizza o non solo per le tecnologie che deve utilizzare, ma per il fatto che diventa un hub, un information broker, un broker di servizi da dare a tutto l'ecosistema che abbiamo visto fino adesso. Quindi per concludere, quali sono i principi organizzativi da seguire per gestire la complessità portata dall'introduzione e dalla pervasività dell'artificial intelligence? Il primo punto riguarda la porosità delle organizzazioni, la contaminazione, la possibilità di rompere i silos, i confini. Questo concetto della contaminazione e della porosità dal mio punto di vista è particolarmente importante. La porosità che permette anche di conseguenza di collaborare di più, di avere più menti che insieme progettano qualcosa, che insieme pensano facendo. E questo porta evidentemente anche alla riduzione dei team in termini di numero di persone. Se io devo essere più collaborativo, se devo rendere l'organizzazione più porosa, i team non possono essere giganteschi, non possono avere team di centinaia di persone. perché non è governabile. E se vale il principio della collaborazione e della contaminazione e nel contempo o team o gruppi più governabili, viene meno anche il concetto della gerarchia come lo intendiamo adesso. È un'organizzazione tra pari, soprattutto quando il livello intellettuale e di preparazione delle persone è molto elevato e quindi non c'è una distinzione in termini di possibilità di contributo, proprio perché il livello di preparazione culturale è molto simile. Quindi arriviamo da una parte alla minimizzazione delle gerarchie e dall'altra a un'auto-organizzazione, che è un ulteriore elemento di contesto. Lasciare che le persone per quanto possibile si auto-organizzino. È vero che questo ha un impatto su come le premio, sui sistemi di incentivazione, sui modelli di governance, ma gli esempi dei giganti che stanno monopolizzando il mondo, quel corporate is king a cui facevo riferimento, i Google, gli Amazon, gli Apple, i Facebook, che vengono chiamati oggi the frightful five, i cinque spaventosi, sono riusciti a raggiungere quella dimensione lavorando esattamente in questo modo. E l'ultimo punto è la scomposizione delle attività rispetto all'obiettivo che vogliamo raggiungere, rispetto all'output che per l'appunto vogliamo raggiungere. Con questo io ho concluso e vi ringrazio.